Le Marche tornano in zona gialla da lunedì. Coprifuoco modificabile a maggio, l'intervista di Alessia Morani. I ristoranti pesaresi si preparano alla riapertura all'aperto. Strada San Nicola da 11 anni aspetta di essere riaperta. I ristoranti pesaresi si preparano alla riapertura all'aperto. Questa è Rossini News, il nostro telegiornale che in questo venerdì 23 di aprile apriamo con l'ufficialità del ritorno delle Marche in zona gialla da lunedì 26 aprile. Ufficialità che è arrivata nel pomeriggio sull'onda del numero di contagi e pressione ospedaliere che si sono sensibilmente ridotte nelle ultime due settimane. Una zona gialla che però ha subito qualche ritocco dal recente decreto riapertura delle governo Draghi come ci viene illustrato nel nostro primo servizio. Zona gialla che arriva, coprifuoco che resta. I benefici del cambio di colore in arrivo per le Marche vengono offuscati dalla nube di un coprifuoco che viene ampliato fino al 31 luglio, salvo accorgimenti per un passo indietro. Non ci sta la Regione. Col governatore Francesco Acquaroli che ha inviato ieri una lettera al governo chiedendo apertamente almeno l'allargamento del coprifuoco fino alle 23. Un provvedimento di allargamento chiesto a differenza di una contrarietà ad un ampliamento che si sarebbe preferito rimandare. Quello del 70% di presenza nelle scuole superiori già da lunedì. L'orientamento della Regione era infatti quello di un 60% più consono all'attuale stato di fatica del trasporto scolastico ad adeguarsi all'ampliamento di un parco mezzi consono alla novità. L'orientamento della Regione era infatti quello di un 60% più graduale e consono all'attuale stato di fatica del trasporto scolastico a conciliare l'ampliamento con un parco mezzi adeguato. Adria Bus e Ufficio Scolastico stanno infatti facendo i salti mortali per adeguarsi nel giro di 48 ore. Dalla scuola ai servizi la zona gialla cambierà invece sostanzialmente la fruizione della ristorazione anche alla luce delle correzioni del decreto riaperture del governo Draghi. Da lunedì 26 aprile riaprono infatti bar e ristoranti sia a pranzo che a cena ma soltanto all'aperto. Dal primo giugno il provvedimento si potrà allargare nei locali al chiuso ma solo fino alle 18. Da lunedì in zona gialla si darà la possibilità di riaprire anche teatri e cinema, anche al chiuso, con posti a sedere preassegnati e la distanza di un metro fra spettatori a meno che non siano conviventi. Da parte degli operatori pesaresi resta però molta incertezza sulle riaperture alla luce del mantenimento del coprifuoco alle 22. In zona gialla si allarga da lunedì anche la pratica sportiva. Dal calcio al calcetto, dal basket alla pallavolo si potrà tornare a giocare ma poi bisognerà fare la doccia a casa perché rimane ancora vietato l'accesso agli spogliatoi. Sono state già fissate altre riaperture allo sport posteriori al 26 aprile. Dal 15 maggio si potrà tornare in piscina ma soltanto in impianti all'aperto. Dal 1 giugno si potrà tornare in palestra attraverso lezioni prenotate. Per quanto riguarda gli spostamenti, da lunedì ci si potrà muovere liberamente fra regioni in zona gialla. E questa mattina nel nostro salotto di casa Rossini condotto da Paolo Pagnini abbiamo avuto ospite la parlamentare Alessia Morani. La deputata espressione del nostro territorio provinciale ci ha espresso una sua valutazione sulle recenti strategie del governo Draghi e sulla campagna vaccinale nella nostra regione. Io credo che si sia fatto purtroppo un po' di confusione rispetto ai contenuti del decreto perché nel decreto c'è scritto che il cosiddetto coprifuoco fino al 15 di giugno sarà alle 22. Però c'è una clausola. Questa clausola dice che sulla base dei dati e sulla base del numero dei contagi e delle vaccinazioni queste restrizioni possono essere riviste. Ed infatti che cosa succederà? Succederà che a metà maggio si vedranno i dati e si deciderà che cosa fare. Io auspico, come è successo l'anno scorso, che a un certo punto il cosiddetto coprifuoco alle 22 venga eliminato. Sicuramente sarà così perché comunque andiamo verso una bella stagione e i contagi in questo momento ci dicono che le cose vanno meglio e la campagna di vaccinazione sta procedendo. Ieri abbiamo superato i 16 milioni di italiani vaccinati per cui insomma credo che tutto questo ci possa far ben sperare. Dal 26 riapriranno le attività di bar e ristoranti all'aperto. Ovviamente sono passaggi graduali perché ancora ai dati di ieri erano 16 mila contagi e oltre 300 morti. ci dicono che serve cautela per cui passo dopo passo riusciremo a fare una stagione estiva come abbiamo fatto l'anno scorso. Ecco, ha citato la campagna vaccinale. Nello specifico delle Marche, tanti argomenti in questo ultimo periodo dal balletto sulle cifre contestabili o meno, com'è la sua valutazione in tal senso? Io credo che la campagna vaccinale nelle Marche poteva essere gestita diciamo con una informazione più corretta e con una organizzazione sul territorio migliore. Mi riferisco in particolare ai cosiddetti centri vaccinali che mancano ancora nelle aree più lontane dalle città. Ci sono anziani che sono stati costretti e sono ancora costretti a spostarsi per decine e decine di chilometri con tutto quello che sappiamo in termini di difficoltà. C'è stato anche un balletto nei numeri che ovviamente ha creato anche una serie di polemiche. Noi ora siamo l'opposizione in ragione per cui facciamo il nostro lavoro, cioè cerchiamo di chiedere chiarezza su ogni singola questione. Mi auguro che la campagna comunque possa proseguire e possa arrivare ad un numero di vaccinazioni che ci consenta anche in questo caso per quello che riguarda il nostro territorio di riaprire gradualmente con quello spirito prudente ma anche con quell'ottimismo visto che siamo una regione che ha un'incidenza del turismo importante per cui insomma dobbiamo essere tutti quanti responsabili ma anche diciamo pronti a riaprire e a ospitare tutte quelle persone che vorranno visitare la nostra provincia, la città di Pesaro e la regione Marche in generale. E dunque con il ritorno in zona gialla i ristoranti possono tornare ad accogliere i clienti al tavolo e farlo all'aperto. È però un provvedimento che presuppone diverse disuguaglianze e che lascia anche perplessità nel conciliare aperture a cena con il mantenimento del coprifuoco. Ultimo weekend confinato ai soli a sporto e consegna a domicilio per i ristoranti pesaresi. Da lunedì ci si torna a sedere al tavolo a pranzo o a cena o meglio lo si potrà fare solo fra coloro che possono permettersi spazi all'aperto. Un problema ridotto in zona mare dove già dalla scorsa estate si presero accorgimenti allargando la possibilità di occupazione di suolo pubblico, situazioni invece diverse in centro storico. Noi già l'anno scorso abbiamo avuto una parte aggiuntiva esterna per l'emergenza Covid da parte del Comune che ci ha aiutato già tanto l'estate scorsa. Speriamo possa essere importante anche quest'estate, è normale che con un coprifuoco alle 10 diventa tutto più complicato perché il coprifuoco alle 10 ma chi mangia deve alzarsi dal tavolo almeno alle 9 e mezza per essere a casa entro le 10. Quindi l'orario d'apertura nostro alle 7, vuoi anticipare di mezz'ora, anticipo di mezz'ora ma non penso che siano in tanti a venire a mangiare alle 6 e mezza, ecco però la speranza è che sia un piccolo passo avanti verso una riapertura diciamo seminormale, ecco anche se la normalità ancora è molto lontana. E c'è ancora questo discorso del andando avanti al dentro, dentro non si può mangiare al chiuso, fuori sì e più avanti a pranzo si potrà stare aperti col dentro ma la cena no, ecco ci sono queste cose che sono incomprensibili, continuiamo a non capire. Allora questo provvedimento secondo me si giudica che è stato un contentino per la categoria visto la situazione che si è andati a manifestare a Roma e a bussare alle porte del nostro governo ci hanno dato un'apertura anticipata su quelle che erano invece le parole di un mese fa. Questo vuol dire che con gli spazi esterni io fortunatamente qualcosa ho, non mi lamento per questo però capite che posso capire chi non ce li ha, in più chi non ha spazio da usare esternamente, in più se ti piove o ti fa un brutto tempo diventa un problema. Insomma io credo che forse si poteva aspettare ancora una settimana, dieci giorni per dare più spazio, più possibilità di un'apertura graduale ma normale, qui andiamo invece con tanti limiti che ci metteranno molto in difficoltà secondo me. La regola però rischia di fare figli e figliastri, chi non può per mettersi spazio all'aperto è costretto a tenere le serrande abbassate. È un problema, è un problema grosso perché purtroppo noi scoperto non abbiamo neanche niente, niente, niente perché il riservano Bruno è impossibile mettere la macchina, i 20 tavolini perché passano le macchine di continua, quella questura non va ben altro. Abbiamo chiesto aiuto e nessuno si aiuta, quindi non ci sa come fare, il copio fuoco alle 10, chi fanno aprire solo a Francia, da noi a Francia all'estate non viene nessuno, quindi è come ci tocca stare chiusi, è vero come va a finire. C'è chi non può tenere spazio all'aperto e chi lo farà fra i tanti dubbi sulla tipologia di Deor consentiti. Allora, noi ieri abbiamo avuto uno Zoom con il vicepresidente della FIPE Aldo Cursano che ha dato un'interpretazione leggermente difforme da quella che noi sentiamo da parte dei responsabili, quelli con cui noi andiamo a interagire. Oggi ci sarà un incontro fra Sua Eccellenza il prefetto e i sindaci che dà un indirizzo di base a tutti. Noi come stamattina, come Commercio, abbiamo già mandato una richiesta per capire che cosa si intende con la parola Deora. Se avessero messo all'interno del decreto, invece di usare paroloni facilmente interpretabili e difficilmente gestibili, avessero detto si mangia all'aperto, noi sicuramente avremmo usato i cortili e tutte le parti dove praticamente le barriere laterali venivano. tolte e la persona poteva mangiare tranquillamente. Questo è l'emblema di un anno e mezzo di malgestione, cioè noi ogni giorno che passa dobbiamo rispondere a quesiti da parte degli operatori, mandare facca al governo per avere quelle delucidazioni, le risposte che onestamente non siamo in grado di dare se le cose fossero fatte in maniera molto più elementare, molto più semplice, sicuramente noi diremo sì o no. Mirko Carloni, a nome della Regione Marche, ha cercato in giornata di fare chiarezza attraverso un video su Facebook. Questa mattina abbiamo ricostruito un'interpretazione che stiamo mandando a tutte le associazioni di categoria, ai comuni, in modo da dare un'interpretazione chiara e univoca. Per quello che mi hanno preparato gli uffici, su cui abbiamo condiviso una visione che all'aperto significa dove c'è anche una struttura che sia però aperta su almeno tre lati, dove se sia un dehors, un loggiato, un porticato, una veranda, può essere considerato l'aperto. Ecco, speriamo che questo chiarimento serva a rendere un po' più semplice questa riapertura per molti bar e ristoranti che attendevano un'ulteriore chiarezza sull'argomento. Ed ora il consueto aggiornamento del servizio sanità della Regione Marche con i dati sul Covid-19 che sono risultati determinanti per il ritorno in zona gialla. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 4187 tamponi, di cui 2266 nel percorso nuove diagnosi. I positivi sono 326, 79 di questi in provincia di Pesaro Urbino. Ancora in calo i ricoveri in regione scesi a 575, cioè 24 in meno di ieri, di cui 70 in terapia intensiva. Nella giornata di ieri si sono purtroppo registrati 11 decessi di marchigiani contagiati da Covid-19. Alle 10.22 di questa mattina si è registrata una lieve scossa di terremoto con epicentro a 7 chilometri da Borgo Pace nella provincia di Pesaro e Urbino. Il sisma è stato di magnitudo 2.9 e si è registrato a 8,6 chilometri di profondità. Due incidenti fra auto e moto nel pomeriggio a Pesaro, ferite lievi per uno scuterista di 35 anni investito dal furgone di un corriere in via Cimarosa attorno alle 14. L'incidente ha creato qualche disagio al traffico ripristinato poi dalla polizia locale. Polizia stradale che invece è intervenuta in zona Villa Fastigi dove si è registrata un'altra collisione fra un'auto e una moto. Il Centauro è stato soccorso dall'ambulanza e trasportato in ospedale. Vi daremo appena possibile ulteriori aggiornamenti. E a proposito di strade da 11 anni, la strada San Nicola è interrotta in seguito a una frana. Il consigliere comunale Emanuele Gambini chiede l'UMI all'amministrazione sulle prospettive di una situazione che da un decennio crea disagi ai residenti. Abbiamo un problema, qui c'è un problema che i cittadini lamentano da circa 11 anni, da quando una frana ha ostruito la strada per quasi 30-40 metri. Negli anni ci sono succedute tante promesse ma la strada è ancora chiusa. I disagi per i residenti sono tantissimi e anche per le attività che insistono su questo territorio. Le lamentele sono tantissime e da anni vanno avanti. Io ho presentato un'interpellanza per chiedere al Comune di Pesaro, all'amministrazione, qual è l'intenzione su questa strada perché i residenti tutti i giorni da quasi 11 anni sono costretti a percorrere 8 chilometri, 600 metri, li abbiamo calcolati sia in bicicletta che a piedi, in più rispetto alla strada normale, quindi con molti disagi sia per l'andata al lavoro e il ritorno, passando in strade molto più lunghe, allungando il percorso e creando quindi molti disagi ai residenti e anche alle attività economiche perché su questa strada insistono anche attività economiche che hanno clienti che devono raggiungere le strutture e quindi si creano tante difficoltà. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che, come sempre, vi invitiamo a inviarci al numero WhatsApp dedicato 370-366-7210. Purtroppo anche oggi voi telespettatori ci inviate un caso di incuria e abbandono di rifiuti. È il caso del parcheggio dietro al Tribunale di Pesaro dove oggi è stato addirittura abbandonato un catetere utilizzato, come potete vedere da queste immagini. Dal 26 di aprile anche i musei potranno riaprire al pubblico. Il direttore di Commercio Marche Nord, Amerigo Varotti, annuncia che già da lunedì, giorno solitamente chiuso al pubblico, riapriranno la Rocca Roveresca di Mondavio, il Museo dei Bronzi Dorati di Pergola e la Quadria Cesarini, la Pinacoteca, Museo Archeologico e Chiesa di San Filippo per quanto riguarda la città di Fossombrone. Riaprono invece sempre dal 26 aprile fino al 19 maggio 2021 le iscrizioni online ai nidi di infanzia comunali di Pesaro per l'anno scolastico 2021-2022. Potranno accedere al servizio i bambini nati nel 2019-2020 fino al 18 maggio 2021. Ed oggi è stato l'ultimo giorno da dirigente dell'ufficio scolastico provinciale per Marcella Tinazzi che lascia dopo sei anni di dirigenza e 35 anni di servizio. Andrà in pensione ufficialmente a partire dal 1 settembre. La Tinazzi, già preside del licee Mamiani e Mengaroni, ha ricevuto oggi saluti istituzionali del comune di Pesaro e di Giuseppe Paolini della provincia di Pesaro e Urbino. In occasione della giornata della terra celebrata ieri, l'ente Parco San Bartolo e l'istituto comprensivo Dante Alighieri hanno installato due bat box alla scuola Mascarucci in zona Soria realizzata dagli alunni della scuola primaria assieme ai bambini della scuola di infanzia Scarabocchio. Si tratta di case per pipistrelli che sono animali che da molti vengono visti come fra i responsabili della diffusione del virus Covid-19 quando in realtà rivestono un ruolo molto importante negli equilibri ecologici. Con questa installazione in occasione della giornata della terra si vuole infatti sottolineare il messaggio educativo che nel nostro pianeta c'è spazio e un rifugio per tutti. Domenica 25 aprile sarà il 76esimo anniversario della liberazione. Rossini TV celebrerà una data simbolo della storia italiana con un documentario che proietteremo sul canale 633 del Digitale Terrestre domenica alle 12.30 e alle 21.30. Intanto vi diamo qualche anticipazione il nostro prossimo servizio realizzato da Edoardo Orazzi. Domenica 25 aprile in occasione del 76esimo anniversario della festa della liberazione Rossini TV trasmetterà alle 12.30 e alle 21.30 lo speciale Noi Partigiani Memoriale della Resistenza promosso da Ampi, associazione nazionale partigiani italiani. Si tratta di un viaggio editoriale dedicato alla memoria di chi ha combattuto per la libertà di tutti gli italiani e che mostrerà centinaia di video testimonianze raccolte da Gad Lerner e Laura Gnocchi in collaborazione con Ampi. Al di là del nostro appuntamento sul canale 633, sempre nella giornata di domenica, a Pesaro si svolgerà in forma ristretta, come da normative anti-Covid, la tradizionale cerimonia di deposizione di corone. Successivamente ci sarà il saluto delle associazioni combattentistiche d'arma, dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, di un rappresentante degli studenti e il discorso del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Il programma si concluderà con un momento di preghiera al Monumento alla Resistenza, nel piazzale Falcone Borsellino. E dunque non perdetevi il documentario in memoria del 25 aprile su Rossini TV, in onda alle 12.30 alle 21.30 di domenica, così come ora vogliamo darvi un consiglio per le vostre letture. Gli occhi di Ciola, viaggio nelle storie di paese, è un volume realizzato dallo scrittore e docente universitario Paolo Sorcinelli, che ha raccolto più di un secolo di testimonianze e tradizioni del paese di San Costanzo. Ciola è il personaggio principale del libro. In realtà all'inizio si chiamava L'aria che tirava, il primo titolo, ma poi alla fine l'ho cambiato. Chi è Ciola? Ciola è un personaggio che nel 1923 si trova di fronte alla sede dei giovani esploratori cattolici di San Costanzo. C'è una visita di tutti i gerarchi della provincia fascisti che sono convenuti a San Costanzo per inaugurare la sede del fascio, però a un certo punto entrano in questa sede e la mettono a suo quadro, distruggono tutto quello che c'era di distruggere. Questo signore, che era un bracciante, una persona analfabeta, ha qualcosa da ridire. Alla sera lo vanno a trovare con un fiasco di olio di ricino e glielo fanno bere tutto. Questa cosa gli provoca conati di stomaco naturalmente, due litri di olio di ricino, non è una cosa da poco, finché gli occhi gli vengono fuori un po' dalle orbite. Lui si chiama gli occhi di Ciola, gli occhi di Ciola, e gli occhi di Ciola diventano il due di denari. Quando si giocava a briscola 3-7, il due di denari sono gli occhi di Ciola a San Costanzo. Ciola è un personaggio, non era un antifascista, ma era uno che in quel momento si trova in una situazione che non approvava. Il libro nasce intorno a tutta una serie di ricordi, di memorie collettive che si sono sedimentate fra l'8 e il 900 in paese e riguardano diversi episodi, tesori nascosti, partenze di emigrati che non ritornano mai più in paese, riguardano un prete castrato che diventa un compositore, una voce bianca molto famosa in Portogallo, riguardano un omicidio politico nel 1921, è tutta una serie di storie che i vecchi mi hanno raccontato, un centinaio di testimonianze ho raccolto, e poi è passato del tempo, è venuto il Covid, e io ho pensato di metterlo bene sulla carta e poi è stato pubblicato. Ecco, è una serie di memorie collettive che danno l'identità, il senso di identità di quello che era un paese. Era perché ormai i paesi non sono più la stessa cosa. Il viaggio nelle storie di paese è un viaggio che può attraversare chi di San Costanzo sfoglia queste pagine, è un viaggio suo personale in una ricerca notevole. Sì, ma è un viaggio che non interessa soltanto i San Costanzesi, sono stato fino all'ultimo indeciso se mettere il nome del paese o non metterlo. Praticamente San Costanzo rappresenta i paesi, storie di questo genere fanno parte di quel bagaglio culturale che ogni paese porta con sé, quindi non è tanto importante il posto, avrebbe potuto riguardare Novilara, Tavuglia, Montelabate, qualunque altro paese di quell'Italia rurale che poi finisce di essere rurale negli anni 50-60 con il boom economico e acquista tutta un'altra dimensione e la perdita anche di tutta una serie di valori che vengono sostituiti naturalmente da altri valori, da altri modi di vivere. E si conclude qui il nostro telegiornale Rossini News. Prima di salutarci però vi ricordiamo qualche appuntamento del weekend a cominciare dalla nostra prima serata che alle 21.15 manderà in onda una nuova puntata della TV dei Viaggi questa sera dedicata alla città francese di Marsiglia. Domattina torna l'informazione in diretta su Rossini TV con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa dalle ore 7.20 per l'occasione condotta da Antonio Astuti. E poi una nostra esclusiva sportiva sabato 24 aprile in diretta alle ore 15 la Coppa Italia di hockey su pista, la finale di Coppa Italia di Serie B che vede la squadra pesarese dell'amatori hockey affrontare Lengas Vercelli. Dunque appuntamento in diretta alle 15 nella giornata di domani. Mentre domani sera sabato 24 aprile per chi si fosse persa le ultime puntate del martedì e del giovedì di Spazio Weibo Live le può rivedere domani alle 21 due puntate del programma musicale condotto da Michele Panzieri e Topazio Perlini. Domenica alle 12.30 con replica alle 21.30 Rossini TV celebrerà il 76esimo anniversario della liberazione 25 aprile celebrato con il documentario realizzato dall'AMPI Noi Partigiani. Domenica sera invece la serata di Wine & Luxury il nostro programma condotto da Emanuela Pacelli vediamo quali sono gli ospiti di domenica sera ancora con noi sarà l'esperto enogastronomico Otello Renzi e poi avremo il presidente del consiglio direttivo dell'Accademia della Crusca Claudio Marazzini e il cotitolare della casa Sgarra di Trani Felice Sgarra. E con questa carrellata di appuntamenti si conclude questa nostra edizione del telegiornale da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi.